Ciao, benvenuti. Questa sera siamo a Legnano, benvenuti agli spettatori di Legnano Web TV. Siamo qui per intervistare Luca Milani. Qual è la tua canzone preferita? Di che? Del disco? Del tuo disco. Il mio disco... l'ultima, con la ukulele, A Place to Stay Bright. Bellissima. Qual è il tuo percorso artistico per arrivare fin qui con questo lavoro nuovo che hai fatto? Beh, sono partito come tutti, comprando una chitarra dopo un concerto, nel mio caso dopo un concerto di Nirvana. Da lì appunto ho cominciato a suonare, a scrivere le mie canzoni, seguendo più o meno uno stile. La musica dei primi anni 90, fine anni 80, insomma, l'evoluzione ha fatto sì che comprasti anche una chitarra acustica. No, insomma, col tempo poi ho imparato ad apprezzare anche altra musica, insomma, tanta musica. Ma quali sono i brani o i generi musicali che ti ispirano, ma soprattutto gli artisti che ti ispirano? Hank Williams, Springsteen, Social Distortion da sempre, e basta, cioè più o meno, poi è un momento che me lo chiedi, non mi viene a mente niente naturalmente. Ho 2000 dischi a casa, ma... Qual è, secondo te, lo spazio per questo genere musicale di questi tempi? In Italia, diciamo che sono un po' tagliato fuori, sotto questo aspetto, nel senso che come genere non penso vada più di tanto. Però è vero che, come altri generi, un po' più di nicchia, tra virgolette, comunque c'è il grande pubblico, c'è comunque, però, a livello di genere, nel senso un po' più di nicchia, ha comunque il suo giro. Quindi ci si conosce un po' tutti, anche tra, diciamo, gli ascoltatori, insomma. I live rispecchiano poi il tuo disco, quello che proponi come musica? Beh, naturalmente a differenza del disco, dal vivo, essendo da solo, mi presento appunto in acustico, chitarra, voce, armonica, e la differenza di base è quella rispetto al disco, che invece ha batterie, tastie, pianoforti... Ma come mai la scelta di proporre la tua musica da solo? Cioè, perché deve essere, secondo me, difficile gestire comunque tutto quanto, compresa la voce, poi? Le canzoni nascono tutte, soprattutto adesso, chitarra, voce. Quindi anche quelle che su disco senti con duemila fronzoli, magari, di fatto nascono da due accordi, la chitarra, c'è chitarra, voce e dopo. Quindi diciamo, il live acustico solista, proprio da solo, nel senso come persona, diciamo, torna un po' all'origine della canzone, di come è stata scritta. Io aspetto di sentirti suonare come tutti noi, in questo momento, e intanto, buon concerto a te, buon concerto a me. Un saluto agli ascoltatori di Legnano Web TV. Un saluto a tutti, ciao. E per questa intervista è tutto, un bacione dalla Gio. Ciao. E per questa intervista è tutto, un bacione dalla Gio.